Ciao Gabriele, ma la giornata pure a te! Salve! Salve! Oh, brigatier carissimo! Tutto a posto a casa? Alla grande! Cosa possiamo fare? Niente, ha detto mia moglie se è possibile che quando ho posto l'aiuto se è possibile fare un'altra chiave come questa, diciamo lei ha la lavanderia e serve per la lavanderia. La vuoi immediatamente o subito? Ha capito a me? Sembra spiritoso! Ehi Marciano la facciamo per aprire o per chiudere? Non me l'ha detto questo fatto io ne ho chiuso questa mattina dalla fretta ha detto fai la chiave però ecco certe volte uno si sofferma quando deve chiedere un favore